Per una felice coincidenza la festa liturgica di Don Bosco il 31 gennaio quest'anno cade di domenica per la famiglia salesiana e per quanti sono devoti a Don Bosco quella di domani per il quartiere Carmine di Salerno che accoglie la casa salesiana sarà una giornata di festa. Cinque incontri dedicati alla preghiera organizzati in onore del santo fondatore della congregazione salesiana morto nel 1888. Una giornata che seppur con limitazioni legate al covid sarà ricca di momenti a sostegno della missione educativa della congregazione. Domani infatti festa di San Giovanni Bosco i salesiani pubblicheranno a livello mondiale diffuso in italiano, inglese, francese, portoghese e arabo un breve spot a sostegno della loro missione educativa. Il messaggio che i salesiani lanceranno è che i giovani non sono tutti uguali sono tutti unici. Sì l'idea è valorizzare un po di più la singola personalità di ogni giovane. Capiamo tutti che sì in genere si parla di giovani a volte li si divide per categoria ma l'idea di immaginarli singoli e quindi relazionarsi a ognuno di loro con le loro problematicità e le loro potenzialità crediamo che sia un'idea bella perché va a valorizzare appunto un impegno educativo personale. Un'attenzione sui giovani in un momento in cui il covid ha ridotto la socialità, la partecipazione e non a caso domani si celebra la festa del santo dei salesiani Don Bosco, una festa che questa volta sarà un attimino un po' più insordina, ci saranno solo le celebrazioni eucaristiche? Sì per noi è chiaro che celebrare Don Bosco non vuol dire solo celebrare qualcuno vissuto tanti anni fa e che si è comportato casomai anche bene davanti alla chiesa e davanti alla gente. Per noi celebrare Don Bosco è rinnovare quell'impegno educativo in un momento in cui ci rendiamo conto che si parla addirittura di emergenza educativa. E allora ricordare Don Bosco per noi è proprio recuperare tutto quell'impegno educativo verso i ragazzi in un momento come diceva lei decisamente problematico anche per loro perché la difficoltà di socializzazione, dei ritmi un po' diversi, la voglia comunque di impegnarsi e così via trova in questo momento grandi difficoltà. Si dice che i silenzi dicono più delle parole in questo momento, il silenzio dei giovani che voce vi fa arrivare? Il silenzio dei giovani per noi è abbastanza assordante perché vivere in questi ambienti, attraversarli quando siamo abituati a ritrovarci ragazzi in mezzo ai piedi in qualsiasi momento è anche per noi un momento di sofferenza e forse a noi fa crescere la voglia di rincontrarli, di rimetterci a disposizione totalmente, personalmente con le strutture al loro servizio e a loro forse la voce che ci arriva da loro è quella comunque di una richiesta di aiuto che in questo momento però è appunto del tutto silente, ma nella vita dei giovani c'è.